Cerca di capire, posso non avere dubbi umani ma ho i miei principi, uccido bestie feroci che minacciano l'uomo per certo, per risparmio quelle che spaventano l'uomo, hanno il diritto perché non minacciano nessuno, ma questo va contro gli interessi dell'uomo, non mi riguarda non lo difendi? difendo vite, non interessi, cos'è che non uccidi? se vuoi saperlo i draghi i draghi non li uccido, i più pericolosi? ma non è vero, piuttosto che attaccare la gente loro scappano, gli uomini cacciano i draghi, ma loro uccidono pecore e mucche, un drago non è un topo, mangia molto, visto che l'uomo ha tagliato le foreste e tutto il resto e lasciato loro poco spazio, cosa devono fare? sei una meraviglia, questo mi preoccupa, ma non sono i draghi meraviglie della natura? soffiano fuori, solcano i cieli, custodiscono tesori solamente per il loro diletto e non sono invidiosi o vendicativi, perché ucciderli? sono bellissimi e l'hanno preso per un complimento a loro, ma attento sono proprio delle amanti instancabili gli piace diamine, gli piace davvero? molto lieto